Hanno affollato la Basilica di San Nicola a Barivecchia per ascoltare la messa fin dalle prime luci del giorno. Sui volti i segni della devozione, espressioni di commozione per il santo venerato in Occidente e in Oriente da cattolici e ortodossi che festeggiano San Nicola, rispettando il calendario giuliano, 13 giorni dopo quello gregoriano, il 19 dicembre. Oltre 400 i russi arrivati a Bari con due charter, affermato il responsabile del Cessvir Rochi Malatesta, ma in Basilica di fedeli e ortodossi se ne contavano almeno 3.000, arrivati in pulmano con mezzi propri da tutta l'Italia. Dopo la prima giornata dedicata ai Vespri che si sono tenuti nella chiesa russa, i pellegrini si sono ritrovati in Basilica per la celebrazione delle messe. Tra loro si scorgono tantissime donne, giovanissime, mamme con i propri bimbi, avvicinati anche per un solo attimo, in cripta davanti alla tomba del Santo di Mira. I fedeli avanzano a passo lento, in silenzio, in fila, aspettando il proprio turno per baciare il simulacro. Una profonda devozione, manifestata in Basilica davanti a due icone di San Nicola, poste ai lati dell'altare. Molti lasciano bigliettini, preghiere con nomi di familiari, amici. Ad ufficiare le celebrazioni liturgiche, il metropolita Murmanska, insieme con il rettore della chiesa russa Andrei Boizov. Un flusso continuo, senza sosta, per i pellegrini che in questi due giorni hanno potuto visitare anche alcune delle bellezze pugliesi, Polignano, Alberobello, le grotte di Castellana.